Coronavirus totalizzante che cambia anche il modo di raccogliere rifiuti per tutti coloro che si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL dunque agli utenti positivi al covid-19. Ecolan per assicurare la massima cautela nel trattamento dei materiali a tutela della salute pubblica e degli stessi operatori con personale opportunamente formato dotato di dispositivi di protezione individuale e con veicoli dedicati e operativa nei 76 comuni gestiti allo scopo di consegnare il kit e quindi ritirare i rifiuti prodotti dalle persone segnalate. Si tratta di un'ulteriore misura di prevenzione al fine di contenere la diffusione del virus. Il presidente Ecolan Massimo Ranieri. Una volta che ci arriva la segnalazione da parte del comune che lo riceve dall'ASL noi ci attiviamo direttamente con l'utenza consegnando innanzitutto un kit di materiali che servono per il conferimento in questo caso tutto nell'indifferenziato e poi ci mettiamo d'accordo con l'utenza direttamente e quindi ci sono tre squadre adesso sul territorio che fanno questa raccolta dedicata e questi rifiuti vengono temporaneamente stoccati per nove giorni. Anche i rifiuti fanno la quarantena e poi portati in un impianto TMB che è quello di Coggesa Sulmona e in questo momento sul nostro territorio abbiamo circa 90 casi di covid positivi a casa. Chiaramente tutto il personale e in particolar modo diciamo il personale che fa questa raccolta particolare è dotata di tutti i dispositivi di produzione individuale e chiaramente sono addestrati per fare questo tipo di attività. Chiuse le isole ecologiche al conferimento degli utenti cambiano anche i consumi degli abruzzesi e dunque i conferimenti. Io resto a casa fatto aumentare l'organico, la carta, il vetro, il consumo di bevande alcoliche è infatti aumentato. Tante le bottiglie di vino, birra e anche super alcolici. È aumentata la produzione dell'organico, della plastica, della carta, del vetro anche e del residuo che è aumentato diciamo tutto. Quale tipo di vetro? Vetro soprattutto, vetro, bottiglie di birra, bottiglie di vino, si consuma in quantità elevata. Ecolan che garantisce ogni servizio sempre in prima linea appellandosi al buonsenso dei cittadini. L'urgenza è per tutti e ognuno deve fare il suo. Continuiamo a rilevare soprattutto nei condomini, quindi il conferimento nei cassonetti condominiali e negli ecobox di tutti i centri, secondo me volutamente a questo punto un conferimento errato perché ritroviamo nelle frazioni recuperabili l'organico, il vetro, nella carta e così via. e quindi io auspico che in questo momento particolare, oltre a mettere bandiere, a mettere arcobaleni e cantare sui balconi, insomma sarebbe l'occasione giusta per solidarizzare nei confronti dei nostri operatori che in questo momento particolare fanno un'attività veramente fondamentale.